Se è vero quello che dicono i latini che è scripta manent, quello che abbiamo letto mi pare significativo, però permettetemi, se è sempre vero che è scripta manent, sarebbe bello che quanto il dottore Iudica ci ha consegnato venga codificato, resti, in memoria proprio di quello che il dottore Moret è stato, anche così si conserva, si costituisce la memoria, lasciando alle generazioni future traccia, ecco queste tracce che ci dicono che cosa significa essere umani, che cosa significa ancora costruire nel nostro tempo percorsi di umanità e di vera fraternità. Per questo io benedico non solo la lapide, è giusto, ma ognuno di voi che è chiamato proprio a custodire e a tramandare questa memoria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén. E viva il dottore Moret.